ha segnato Michele, Michele Daniello ha raddoppiato 2 a 0 fino adesso per la Virtus Castelfrentano contro il Miglianico Calcio Michele vieni da zio Carlo, bravo Michele, e scappa sempre Michele si Michele si era mangiato proprio pochi minuti prima il raddoppio, adesso è stato ricompensato con questa rete che porta a 2 il risultato 2 a 0 fino adesso per la Virtus Castelfrentano grazie